9. Quali rischi legati al ritardo delle riaperture, sia per i cronici già diagnosticati che per i casi che non sono potuti essere stati diagnosticati durante il periodo del lockdown? Il rischio è sicuramente quello di ritardare la modifica di un trattamento laddove necessario nei pazienti già presi in carico, oppure ritardare la diagnosi e quindi un trattamento tempestivo ed efficace nei pazienti che invece sono nuovi riscontri di diabete nel nostro caso e che quindi avrebbero necessità di un inquadramento diagnostico e terapeutico più veloce possibile. Qual è la situazione oggi sulle riaperture? La riapertura è stata avviata, è stata avviata ovviamente dovendo tener conto di tempistiche di accoglienza del paziente differenti rispetto a quelle a cui eravamo abituati e avendo l'accortezza ovviamente quindi di tenere distanziati i pazienti il più possibile, questo ovviamente significa per noi che eravamo abituati ad avere visite di controllo ogni 15-20 minuti, dover distanziare di più significa perdere in capacità ricettiva e quindi in teoria venire meno a quella che è la nostra capacità di risposta al volume di pazienti che fa la domanda chiaramente. Quindi anche le liste d'attesa sono andate ovviamente a sovraccaricarsi? La lista d'attesa di fatto quindi se la… dobbiamo ovviamente rispettare questi criteri di diluizione è veramente lunga e richiederebbe quindi o una dilatazione temporale dell'impiego e dell'impegno degli specialisti e del personale o più personale ovviamente per far fronte alla… al volume di lavoro che ci aspetta. Ecco quindi alla luce appunto di quello… delle sue parole, quali proposte da attuare in questa fase e ovviamente anche nell'immediato futuro? Le proposte ovviamente sono… sono molteplici, fermo restando che sicuramente la mole della… e il volume di richieste da parte dei pazienti diabetici è sicuramente grande e sicuramente destinata ad aumentare. È chiaro come è stato sollevato giustamente che il numero degli specialisti e quindi della forza lavoro deve sicuramente essere implementato perché se già in origine pre-Covid soffrivamo di una carenza di specialisti è ovvio che la richiesta è ancora maggiore adesso. È vero anche altrettanto che lo specialista non può essere fabbricato dall'oggi al domani quindi se la risorsa non è disponibile dobbiamo trovare altre modalità di risposta in attesa che lo specialista sia pronto per essere impiegato laddove ce n'è bisogno. Quindi noi diciamo nella nostra realtà chi… ognuno con i nostri mezzi e adesso sicuramente cercheremo però insieme alla regione di standardizzare questo tipo di strumento e queste risposte abbiamo cercato di mettere in campo anche lo strumento della telemedicina declinato nelle sue varie ovviamente offerte. Quindi contatto col paziente e o contatto anche con il medico di medicina generale. Questo per far sì che il paziente cronico che non poteva accedere all'ambulatorio trovasse comunque una risposta alla problematica acuta di uno scompenso che stava sopraggiungendo e quindi un cambio immediato di terapia laddove è stato necessario ma anche una risposta alla necessità di aggiornare quelli che erano i piani terapeutici e tutti gli strumenti anche burocratici che servono al paziente per continuare la sua terapia. D'altra parte nel paziente acuto esordio non potendo cercando di evitare laddove era possibile l'accesso in pronto soccorso il medico di base ha trovato in questo strumento il modo per contattare lo specialista e per avere un consiglio terapeutico nell'immediato in modo tale da dare intanto una prima strumento terapeutico al paziente che cercando di evitare il più possibile l'accesso all'ospedale laddove era ovviamente evitabile. Tutto questo necessita anche oltre che della standardizzazione e della regolamentazione di questo nuovo strumento anche di una implementazione di tutti quelli che sono nostri substrati e strumenti tecnologici perché chiaramente sia noi che i pazienti, sia le strutture sanitarie che gli utenti ovviamente in questo momento si sono trovati a dover rispondere con gli strumenti che avevamo a disposizione quindi a volte anche rudimentali quindi connessioni non sempre brillanti, necessità di far di chiamare in causa i caregiver quindi i figli, i nipoti, le badanti perché magari la persona non era in grado di rispondere di per se stessa con la foto inviata via mail ma devo dire che la risposta è stata nella stragrande maggioranza dei casi pronta e anche entusiasta da un certo punto di vista cioè tra l'essere isolati e lasciati soli e comunque trovare questo tipo di supporto credo che il paziente sia stato molto contento e sollevato in alcuni casi.